Buonasera amici telespettatori di Udinese TV, in particolare questa sera telespettatrici di Udinese TV perché ci occupiamo della salute delle donne e lo facciamo con il professor Angelo Cagnacci, direttore di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Udine. Buonasera a tutti. In realtà quello che diremo tra un po' interessa in qualche misura anche l'uomo, quindi non soltanto la donna, è chiaro che però quando si parla di ginecologia e di ostetricia è la donna al centro del discorso. Partire dal papillomavirus perché? Perché nei giorni scorsi c'è stata una polemica sul vaccino scatenata da un servizio della trasmissione report, ci arriveremo però tra un po' perché prima vorrei che lei spiegasse che cosa è il papillomavirus. Sì, certo. Il papillomavirus è un virus che ha una trasmissione essenzialmente di tipo sessuale, quindi può essere identificato tra le malattie sessualmente trasmesse. Diciamo che di questo virus ne esistono vari tipi, alcuni di questi danno delle malattie che non sono tumorali, tipo le verruche o tipo i condilomi genitali e quindi hanno una prevalenza soprattutto per patologie della pelle che si manifestano e che sono però anche abbastanza invalidanti talvolta. e altri tipi di virus invece, ne esistono circa 45 genotipi di questi virus, altri tipi di virus invece sono più, danno una trasformazione soprattutto delle mucose, delle mucose vaginali e della mucose soprattutto della cervice, una trasformazione in senso neoplastico. Quindi creano, sì, il DNA di questo virus viene inglobato dalla cellula e incomincia a replicarsi all'interno della cellula e a trasformare la cellula in senso non fisiologico, quindi progressivamente la cellula incomincia ad alterare le sue caratteristiche fino a che può trasformarsi in un tumore vero e proprio. Quindi si entra in contatto con questo virus una volta iniziata la propria vita sessuale, sia per l'uomo che per la donna? Generalmente sì, generalmente si entra in contatto con questo virus durante i rapporti sessuali, quindi prima dei rapporti sessuali è molto difficile venire a contatto con questo tipo di virus. Tuttavia, diciamo, nell'arco della vita della donna circa l'80% delle donne viene a contatto con questo virus e quindi, diciamo, è una malattia, cioè è un'infezione, potremmo quasi dire ubiquitaria, cioè è difficile non venirne a contatto con questo virus. Può rimanere latente? Può rimanere latente. Allora, intanto, diciamo, questa infezione può essere guarita spontaneamente dalla donna o anche dall'uomo nel caso che lo prendesse. Per cui, e questo dipende da una serie di fattori come la risposta immunitaria della donna, come il fatto se viene infettato una volta sola oppure se si infetta tutte le volte, spesso, quindi se ha spesso dei contatti con altri individui affetti, se ha delle infezioni concomitanti che ne favoriscono ulteriormente la sopravvivenza. Quindi quanto più si è deboli, più c'è la possibilità che il virus si manifesti. Si manifesti. Come avviene un po' anche per tanti altri virus, per tanti altri, come l'herpes, per esempio, ho sbaglio, che a volte viene fuori in situazioni di stress o di concomitante con altre malattie. Esattamente. Quando siamo in situazioni di immunodeficienza, comunque di scarsa, diciamo, risposta immunitaria, si può avere una persistenza del virus. Però generalmente se ne guarisce spontaneamente. Progressivamente poi, diciamo che la trasformazione in senso enoplastico della cellula, in senso tumorale della cellula, richiede tempo, richiede un passaggio attraverso forme che non sono tumorali, ma che sono alterazioni iniziali della struttura della cellula, della struttura della mucosa, che progressivamente diventano sempre più, si avvicinano sempre più al tumore, fino a diventare il tumore. Ecco, questi passaggi consentono quindi alla medicina, alla scienza, di intervenire nel mezzo. Con quali strumenti si può intervenire? Esattamente. Diciamo che l'arco può essere, si pensa che vada dai 10 ai 30 anni nell'evoluzione di questa infezione per arrivare alla neoplasia, ma al tumore. Ma non tutti, diciamo, arrivano al tumore. Delle infette, alla fine arriverà l'1%, lo 0,5%, arriverà a, se non viene curato, arriva al tumore. Ma il tumore può colpire anche l'uomo? Sì, sì, il tumore può colpire anche l'uomo, soprattutto, diciamo, questo virus è responsabile del 100% dei tumori della cervice, quindi del collo dell'utero, è responsabile più o meno della stessa percentuale dei tumori del pene, quindi dell'uomo, e poi è responsabile anche di altri tipi di tumore, come i tumori dell'ano, i tumori del loro faringe, perché chiaramente ci possa essere un'infezione che viene allargata non solo ai genitali, ma anche a questi rapporti diversi. E chiaramente è favorito anche, per esempio, da dei traumatismi, cioè è più facile che se il rapporto è di tipo traumatico, si crea una lesione sulla mucosa dove il virus più facilmente si va a battecchere. E' arrivato poi il vaccino una decina di anni fa, individuato come causa di questi tumori il virus, è stato prodotto il vaccino. Andiamo subito sulla polemica. Allora, il report ha sollevato il problema degli effetti collaterali. Intanto possiamo dire che per qualsiasi pratica medica c'è uno 0,1%, un percentuale, magari sto dicendo una sciocchezza, ma comunque per qualsiasi pratica medica c'è una controindicazione, non è anche vero però, che quando si arriva a utilizzare una procedura sull'uomo, vuol dire che c'è stata una sperimentazione severa e lunga, tale da consentire di essere ragionevolmente, più che ragionevolmente sicuri che non ci siano problemi nell'effettuare una pratica medica, e in questo caso nel vaccino. Sì, diciamo che il rischio zero non esiste nella vita. Cioè, io e lei siamo qui, pensiamo di avere nessun rischio, potrebbe venire un terremoto, quindi non esiste un rischio zero. E quindi dobbiamo, in un certo senso, accettare che non ci sia il rischio zero per qualsiasi procedura che noi facciamo, per la gravianza stessa, noi pensiamo che sia fisiologica, ma c'è un rischio altissimo di patologie, di mortalità, di... E ancora oggi si muore purtroppo durante il parto, quindi... Esattamente, quindi, cioè, purtroppo, cioè, purtroppo, meno male che le, diciamo, le mortalità, le patologie si riducano progressivamente col miglioramento delle cose, però chiaramente il rischio zero non esiste per nessuna malattia e per nessuna medicina che venga somministrata. Così come per i vaccini, così come per i vaccini. Chiaramente, una volta che il vaccino viene introdotto in commercio, è stato testato progressivamente e tutte le reazioni avverse valutate in trial clinici ben controllati. È chiaro che i trial clinici ben controllati sono fatti non su un milione di popolazione, sono fatti su migliaia di persone, quindi quando ci si allarga dalla migliaia ai milioni... Può subentrare qualche effetto non valutato prima... Può subentrare qualche effetto non valutato prima e quindi questi i casi che possono anche succedere. Però bisogna, diciamo, mettere tutto in relazione. È chiaro che se noi sentiamo la persona che è stata colpita rispetto agli altri 999 mila, ci facciamo un'idea, diciamo, sì, parziale della cosa. Ma forse il problema principale è che anche in queste situazioni intervengono persone che non hanno una formazione scientifica. Forse a parlare di queste cose dovrebbero essere medici, scienziati, ricercatori e non giornalisti senza magari una... adesso non voglio dire quelli di report, per carità, sono preparatissimi e sono bravissimi. Però è chiaro che se parla un medico c'è un approccio diverso. Certo, questo è sicuro. Credo anche che sia un fattore di informazione, a dirà di essere più o meno bravi come giornalisti e come medici, c'è un fattore di informazione, ovvero sia che quando si parla in un dibattito e uno sostiene una tesi e magari è l'unico colpito da quella cosa e l'altro sostiene l'altra tesi e ha dietro di sé 999 mila persone, però nel dibattito siamo al 50%. Quindi la percezione del problema è molto più alta di quella che effettivamente è. Il vaccino può essere somministrato in qualsiasi momento della vita oppure c'è un momento specifico, particolare, che lo rende più efficace? Chiaramente è più efficace quando, diciamo, allora, di questo vaccino dell'HPV ne esistono tanti diversi genotipi, che vuol dire diverse forme e alcune di queste forme sono responsabili di neoplasie, però non c'è una forma unica che dà origine al tumore. Ci sono varie varianti di questo HPV che possono dare questo tumore e quindi il vaccino generalmente viene fatto per le forme che più frequentemente danno il tumore. Quindi adesso facciamo un vaccino quadrivalente per le forme che essenzialmente sono responsabili della maggior parte dei tumori, ma non della totalità dei tumori. Quindi coprono un 70-80% del rischio. E chiaramente sono fatte... Ma l'altro 20% è scoperto perché non c'è il vaccino per quel tipo di virus? Esattamente, perché il vaccino non copre quegli altri tipi di HPV. Quindi cosa succede? Che è più efficace, chiaramente, prima che ci sia stata un'infezione. Quindi è più efficace il vaccino se non lo facciamo in donne e in bambine che non hanno mai avuto un rapporto sessuale. Quindi l'indicazione di farlo in giovani donne, anche adesso in fiori in giovani donne, si sta iniziando anche con gli uomini, con gli uomini dai 11 a 12 anni che non hanno ancora avuto rapporti sessuali perché copre tutte e quattro le possibili evoluzioni. Però si può fare anche più tardivamente, si può fare individui maggiormente a rischio. Ma bisogna farlo quando si è sicuri che non si è stati ancora colpiti dal virus? No, l'indicazione è di farlo prima di essere stati colpiti dal virus, ma si può fare anche dopo essere stati colpiti dal virus. Certo, ci si può accertare se una persona ha il virus in sé, la tende. Certamente si può fare, però chiaramente, come le dicevo prima, siccome i virus sono di vario tipo, uno è stato infettato da un tipo di virus, ma non probabilmente dagli altri tre o quattro tipi di virus. Quindi per gli altri tre o quattro comunque il vaccino è valido. Il papilloma è responsabile, lei ha detto, di alcuni tipi di tumore, ma ci sono anche altre forme tumorali che non dipendono da questo virus. quali sono e che cosa si può fare in termini di prevenzione per far sì che si possa tenere sotto controllo l'insorgere di queste patologie. Diciamo che dal punto di vista ginecologico il carcinoma di servizio per il 100% è responsabile il papilloma, quindi i vari tipi di papilloma virus, ma il papilloma virus. Quindi lo screening con l'HPV test e poi, come dicevamo prima, eventualmente lo screening del pap test, che deve essere comunque fatto, per ora ancora in maniera regolare, perché ancora non abbiamo i dati di prevenzione assoluta del carcinoma di servizio, è importante. Tutti gli altri tumori... Ma c'è una tendenza che si è manifestata pur non avendo un dato assoluto? Cioè si capisce dopo dieci anni di somministrazione già adesso se il tumore è calato? Certo, noi non abbiamo il carcinoma virus, ma abbiamo i dati intermedi, cioè l'evoluzione verso il carcinoma. Ah, il famoso discorso da 0 a 30 anni. Da 0 a 30 anni. Noi abbiamo i dati intermedi che le lesioni intermedie si sono ridotte in maniera drammatica nelle donne che hanno fatto la vaccinazione. Questo è l'indice di vaccino funzionale. Sappiamo che si riducono tra l'80 e il 90%, quindi evidentemente poi arriveremo che anche il carcinoma si riduce alla stessa quantità. Gli altri tipi di tumore invece non sono di origine virale, quindi non esiste un vaccino, ma hanno altri fattori di rischio. Sto parlando del carcinoma dell'endometrio, per esempio il carcinoma dell'ovaio. In questi noi però sappiamo bene quali sono le donne che sono maggiormente a rischio. Sappiamo i picchi di prevalenza, sappiamo le donne che hanno difetti dell'ovulazione, che ovulano male, che hanno mestruazioni molto abbondanti. Nel periodo perimenopausale o nel periodo postimenopausale che sono sovrappeso, sono a maggior rischio, per esempio, di carcinoma dell'endometrio. Quindi tutte queste donne, soprattutto in postimenopausa, che hanno dei sanguinamenti un po' irregolari, che compare una mestruazione, un sanguinamento dopo, un anno o due anni che non ci sono più mestruazioni, devono avere un campanello d'allarme, di dire mi vado a far vedere, perché ci potrebbe essere che c'è qualcosa che si sta trasformando. Un'altra delle patologie di cui ho sentito parlare, l'endometriosi, che sembra essere abbastanza invalidante. Che cosa è? A cosa può portare se non controllata? E come la si può prevenire e tenere sotto controllo? Ha ragione, l'endometriosi è una malattia che non è un tumore, è una malattia quindi tra quelle benigne, non si muore di endometriosi, però ha un andamento, diciamo sì, nel tempo, un po' di tipo tumorale, cioè è una malattia che tende progressivamente a invalidare progressivamente la donna che ne è affetta. È una malattia legata essenzialmente alla presenza di tessuto, di quel tessuto che viene espulso durante le mestruazioni, il tessuto endometriale, che invece di uscire all'esterno, rientra all'interno dell'addome e si impianta all'interno dell'addome. Qui crea, diciamo, progressivamente, dei fattori infiammatori, quindi delle aderenze, delle distorsioni dei vari organi e può portare poi progressivamente a disturbi intestinali, a occlusioni intestinali, disturbi vescicali, dolori. Quindi sono come delle formazioni tumorali benigne? Formazioni tumorali benigne, che però, diciamo, è una malattia di tipo cronico, cioè è una malattia recidivante, quindi occorre che causa infertilità e che è una delle cause principali di dolore pervico cronico, cioè è molto invalidante perché queste donne stanno sempre male. stanno male. Stanno male. Ma ci si può premunire con esami e con una prevenzione oppure è un fattore genetico per cui se uno è predisposto capita e purtroppo se la deve tenere? C'è una predisposizione, c'è una predisposizione, ma ancora, diciamo sì, non c'è proprio un fattore genetico chiaro che ci dice questa donna avrà l'endometriosi e questa donna non avrà l'endometriosi. Quello che noi sappiamo è che soprattutto le prime fasi di questa malattia sono caratterizzate, delle volte anche asintomatica, ma generalmente le prime fasi di questa malattia sono caratterizzate da donne, cioè da un dolore molto forte durante le mestruazioni. Quindi questo è abbastanza frequente nelle ragazzine, però quando ci sono questi dolori molto forti, circa il 25% delle ragazze ha questo tipo di disturbo, dolori molto forti, non riescono ad andare a scuola, non riescono ad avere una buona vita di relazione in quei giorni delle mestruazioni, beh, questo, diciamo, rappresenta già un fattore di rischio, perché quando la mestruazione è molto dolorosa, indica che l'utero si contrae molto forte e parte del sangue rifluisce dietro il carattore, rifluisce dietro. Quindi cosa si può fare? Cosa si fa? Quindi generalmente dobbiamo fare una valutazione precoce di queste ragazzine, ma in generale un po' di tutte le donne e perché la possibilità è quella di ridurre, cioè noi non abbiamo ancora delle cure definitive per l'endometriosi, quindi dobbiamo fare prevenzione o controllare i meccanismi che portano a sviluppare l'endometriosi, ridurre o bloccare il ciclo e quindi questo è il primo step da fare. E poi tenere sotto controllo queste ragazze perché non si sviluppi, diciamo, non si evidenzi chiaramente la malattia. Una volta evidenziata c'è anche un'indicazione chirurgica? Una volta evidenziata chiaramente adesso, diciamo, inizialmente c'è stata l'idea di operare tutte queste donne. Adesso sappiamo che è una malattia recidivante, quindi si scelga, ci sono delle terapie specifiche che non sono terapie vere e proprie, sono di controllo del disturbo e della malattia più che di guarigione della malattia. curano il sintomo ma non la malattia. Curano il sintomo e cercano di bloccare la progressione per cui riusciamo a tirare avanti, cioè diciamo la chirurgia che prima era il primo approccio diventa l'ultimo step. Quando proprio non si può più fare a meno. o abbiamo dei dolori fortissimi non controllabili che quindi abbiamo bisogno di andare a togliere questa malattia o ci sono dei danni funzionali tipo ostruzione intestinale eccetera per cui dobbiamo andare a operare perché in quel caso la malattia è molto avanzata e non riusciamo ma quando ci sono delle cisti ovariche perché spesso la prima manifestazione è una cisti ovarica si cerca in questa fase qui non tanto di andarla a togliere ma di tenerla sotto controllo perché tutte le volte che andiamo a operare una donna nell'ovaio riduciamo la sua fertilità quindi cerchiamo almeno nelle prime fasi di tenere la malattia sotto controllo come la terapia fino ad una certa età dopo una certa età magari cambia il peso sulla bilancia di una terapia di un'indicazione terapeutica rispetto ad un'altra conservativa che può essere per le giovani e magari risolutiva per donne un po' più avanti con l'età che non hanno più il desiderio o comunque la voglia di diventare mamme quindi questo può essere diciamo che il desiderio di gravidanza è uno dei fattori discriminanti di gravidanza parliamo anche di cose belle finora abbiamo parlato di patologie però per fortuna sappiamo anche che c'è la possibilità di prevenirle di curarle quindi bisogna fare attenzione fare prevenzione seguite il medico care donne che ci state ascoltando andate al ginecologo nei tempi che il ginecologo vi indica il medico di base inizialmente per le prime informazioni e poi seguire i consigli è la maniera migliore per poter prevenire qualsiasi malattia parliamo di cose belle la gravidanza perché naturalmente ginecologia non è soltanto tumori ma è anche la nascita che è la cosa più bella del mondo quali servizi offre la sua struttura in ospedale per esempio parlo di parti particolari si fa del parto in acqua piuttosto che quello naturale o quello cesareo che sono i due standard chiamiamoli così tradizionali chiaramente il parto la struttura per ora è una struttura diciamo un po' retusta la interromo subito con una domanda un tempo si partoriva soprattutto per via naturale poi c'è stato un periodo in cui si sono impennati i parti cesarei mi sembra che da qualche anno a questa parte si sia tornati di nuovo al parto naturale intanto è così ancora oggi si preferisce il parto naturale beh certamente ci sono ci sono tanti dati che ci dicono che il parto naturale da certi punti di vista è favorevole è migliore è migliore per il bambino e soprattutto diciamo sì per una migliore maturazione del bambino e anche per la trasmissione di alcune informazioni da parte della madre al bambino e sto parlando per esempio della colonizzazione batterica del bambino il bambino vive in una struttura in un ambiente sterile fino al momento della nascita diciamo molte delle nostre azioni delle nostre funzioni sono svolte da batteri che sono saprofiti cioè che vivono in simbiosi con noi no e l'intestino per esempio è pieno di questi cioè tutte molte delle funzioni che noi batteri buoni chiamiamoli così esatto molte delle nostre funzioni sono fatte da questi batteri bene durante il parto durante il parto vaginale il bambino fotocopia i batteri della madre quindi i batteri che la madre ha sia in vagina che a livello del sistema gastroenterico e facendo così praticamente viene colonizzato rapidamente entro una settimana da batteri materni cioè da quei batteri che la madre ha se invece il parto viene per il taglio cesario non riesce non ingerendo i batteri della madre durante il canale della parte durante il parto non viene colonizzato da quei batteri lì ma viene colonizzato da batteri di tipo cutaneo e quindi ci sono poi più tardivamente dei problemi diversi una colonizzazione diversa quindi disturbi gastroenterici si sviluppano più facilmente malattie immunitarie eccetera quindi c'è un ritorno al parto naturale e devo dire anche le indicazioni della regione ma anche della nostra azienda sanitaria sono quelle appunto di ridurre progressivamente i cesari ma anche di ridurre progressivamente l'induzione del parto cioè la farmacologia non solo per problemi di costi non solo mi verrebbero a dire per problemi di costi perché il cesario costa sicuramente più di un parto naturale non necessariamente la politica magari fa questo ragionamento la medicina no diciamo che non è non necessariamente se lei guarda nelle strutture private il taglio di cesari è molto più alto che rispetto alle strutture pubbliche perché chiaramente tenere una persona durante il travaglio travaglio impegnato a 12 ore o 14 ore costa molto di più che tenerne una mezz'ora in sala operativa non avevo pensato al travaglio non avevo fatto questo calcolo abbiamo detto dei vaccini prima riguardo il papillomavirus ma ci sono delle vaccinazioni che una donna può fare per alcune malattie in via preventiva in vista di una gravidanza ho letto che l'azienda sanitaria del fluo di Venezia Giù la consiglia il vaccino contro la rosolia il morbillo se non sbaglio no contro la varicella e la rosolia perché questi vaccini si possono fare si devono fare prima del concepimento o possono essere fatti anche dopo? i vaccini vanno fatti prima del concepimento perché chiaramente si creano delle reazioni immunitarie poi alcuni dei vaccini sono fatti da virus attenuati che quindi possono dare un'infezione comunque anche minimale ma e quindi però è infetto può essere esatto può essere infettato e chiaramente queste malattie portano a delle malattie fetali importanti se venissero contratte durante la gravidanza quindi sarebbe meglio essere vaccinati prima è consigliabile farlo prima anche in questo caso quindi l'informazione quando si ha intenzione di concepire un figlio di prepararsi prima non sempre è possibile prepararsi prima a volte capita così all'improvviso però quando è un progetto è bene che lo si inizi a sviluppare dalla base andando a vedere le proprie condizioni di salute magari seguendo appunto i consigli dei medici la varicella io sono vaccinato per la varicella quindi ai miei tempi era obbligatoria e vede poi il discorso di non fare o fare il vaccino condiziona anche poi gli altri cioè quindi in questo caso condiziona il bambino essere vaccinato prima l'ho interrotta prima ma in effetti la mia domanda poi all'inizio era un'altra su questo discorso quali servizi offre la struttura di Udine mi diceva che è una struttura un po' vetusta la vetusta dal punto di vista strutturale infatti ci sposteremo entro un anno e in questo momento quindi diciamo le sale parto sono abbastanza compresse quindi abbiamo la possibilità di fare dei parti facciamo il parto naturale chiaramente in varie posizioni abbiamo delle belle poltrone da travaglio che ci consentono varie posizioni le oestetriche sono in grado di far partorire in varie posizioni soprattutto quelle più giovani che studiano maggiormente la dinamica del parto e non necessariamente diciamo il travaglio e l'espritamento del parto deve essere fatto sdraiato nella classica forma ma talvolta in piedi di carponi eccetera non abbiamo ancora questo dipende dalla conformazione della donna che va a partorire dipende diciamo la gravitazione favorisce e quindi diciamo ci sono delle posizioni che favoriscono il medico e l'ostetica che favoriscono la partoriente e quindi c'è una tendenza ad andare verso i bisogni della partoriente e il parto facilitare il parto chiaramente stiamo andando sempre progressivamente di più verso il parto naturale quindi verso la riduzione di tutti gli eventi farmacologici di intervento sul parto e lasciare diciamo la gravidanza che va davanti anche la donna ha un decorso post parto migliore naturalmente se partorisce per via naturale diciamo che la natura deve fare il suo corso e quindi da un atteggiamento dello stetico interventista che vuole velocizzare sta lì davanti e vede che il parto invece andiamo più verso la naturalità abbiamo chiaramente quello che possiamo servire offrire sicuramente il parto in dolore ecco questo di sicuro con l'epidurale con l'epidurale che è un servizio importante che non in tutte le strutture in Italia di quanto riduce il dolore in percentuale? ma lo riduce lo riduce molto lo riduce molto diciamo va iniziato non subito si inizia quando inizia già il travaglio quindi dopo 2-3 cm di dilatazione quindi c'è un piccolo dolore diciamo all'inizio ma poi nella fase successiva il dolore viene praticamente quasi abolito ma anche nella fase di anche nella fase di espulsione questo da un certo punto di vista richiede che il personale sia un po' più preparato nel senso che il parto è un po' rallentato è un'anestesia anche sì il parto è un po' più rallentato perché le contrazioni vengono percepite meno la dilatazione è migliore ma le contrazioni vengono percepite meno quindi ha difficoltà a spingere e nella fase espulsiva il dolore serve serve proprio per fare perché la donna si voglia liberare che chiede la partoriente di usufruire di questo servizio oppure c'è anche un'indicazione che magari dà il medico no è una scelta è una scelta della donna è una scelta della donna bene abbiamo dato delle informazioni utili immagino che siano informazioni utili no questo lo può dire lei io posso soltanto supporlo per la mia assoluta totale ignoranza in in materia la ringrazio professore per essere stato con noi avremo modo senza altro di rivela qui nei nostri studi perché poi la sfera della ginecologia dell'ostetricia è ampissima come tutte le branche della medicina quindi c'è sicuramente la possibilità di parlare ancora di tanto altro e non necessariamente come abbiamo fatto adesso con il parto di cose brutte di malattie di patologie si può parlare come vedete anche della vita che è rappresentata appunto dal parto dalla nascita grazie grazie ancora professor Cagnacci grazie a voi per averci seguito ci ritroveremo la prossima settimana come sempre su questa rete venerdì alle 20 con una nuova puntata di salute e benessere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti